Una condanna a 25 anni da trascorrere in carcere in Egitto con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. È la sentenza del Tribunale del Cairo nei confronti di Giacomo Passeri, il giovane 31enne pescarese, in cella da quasi un anno il cui caso era esploso a luglio con la famiglia che aveva parlato di torture. È in uno stato d'abbandono e senza cure dopo un intervento chirurgico ed è stata sempre la famiglia a rendere nota la sentenza dei giudici egiziani emessa tre giorni fa parlando però di una condanna all'ergastolo. Siamo ancora sotto shock e ci hanno appena comunicato che Giacomo è stato condannato all'ergastolo, ha detto il fratello Andrea che insieme a Marco Antonio, l'altro fratello residente a Roma, si sono appellati al governo affinché si adoperi per far tornare il giovane in Italia. La Farnesina ha fatto sapere che durante l'udienza di primo grado al Cairo ha assistito in qualità di osservatore il capo della cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia accompagnato da un interprete e lo stesso giorno l'avvocato ha informato la sede che il signor Passeri è stato condannato a 25 anni di detenzione. Il legale di Passeri ha comunque già informato l'ambasciata dell'intenzione di presentare ricorso, dice ancora il Ministero degli Esteri con la sede diplomatica che sta continuando a seguire il caso con la massima attenzione attraverso costanti contatti con il legale e ha richiesto alle competenti autorità egiziane di autorizzare una visita consolare in carcere con la massima urgenza per prestare ogni necessaria assistenza. Secondo quanto risulta la Farnesina, gli egiziani accusano Passeri di essere stato trovato con un importante quantitativo di droga, tra cui numerosi ovuli da lui ingeriti contenenti anch'essi stupefacenti ed è questo il motivo per il quale è stato condannato per traffico internazionale di droga. Mentre, secondo quanto riferito telefonicamente dal fratello Marco Antonio, che risiede a Roma, Giacomo sarebbe stato vittima di percosse e torture in albergo al momento dell'arresto e poi anche in ospedale dove il 31enne è stato trasportato d'urgenza per un intervento di appendicite. In un primo momento le autorità egiziane avevano ritenuto che Giacomo avesse nascosto degli ovuli con la droga nel suo addome e detto ancora Marco, mi sentivo morire, ha scritto Giacomo nella lettera inviata ai familiari. I poliziotti egiziani continuavano a ripetergli che la legge erano loro, aggiunto ancora il fratello, e lo hanno costretto a firmare un documento dove confessava di essere un trafficante di droga. Il giovane che da tempo risiede a Londra, papà italiano e mamma della Sierra Leone, era stato arrestato il 23 agosto del 2023 per il possesso, secondo la versione dei familiari, di piccole dosi di stupefacenti. Subito dopo la notizia della condanna, sono scattate le reazioni dell'opposizione che chiede al governo di intervenire. Il deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Marco Grimaldi, ed il segretario regionale di Sinistra Italiana, Abruzzo, Daniele Liccheri, esprimono preoccupazione, indignazione e sconcerto. Siamo davanti a una sentenza inaccettabile. Luigi Giacomo Passeri è stato detenuto in assenza di traduttori, sottoposto a interrogatori in assenza di avvocati. Non c'è bisogno di sapere l'accusa per capire che siamo davanti alla violazione del diritto internazionale. Per questo chiediamo alla Farnesina di attivarsi, perché da più di un anno non vede nessuno dei suoi familiari. È sottoposto a una detenzione che è quella per i criminali internazionali o per i pluri omicidi. Luigi Giacomo Passeri non si merita questo trattamento. Grazie a tutti.